Si erano accampati nella zona del Trebbia, a Ponte Organasco, nel comune di Ceregnale, per trascorrere il periodo di Ferragosto, ma la loro vacanza è stata bruscamente interrotta dai controlli dei carabinieri di Bobbio e Ottone. Alcuni cittadini avevano segnalato giri sospetti in quell'area e i militari sono intervenuti all'alba insieme all'unità cinofila della Guardia di Finanza. All'interno della tenda sono stati trovati complessivamente 70 grammi di marijuana, 20 di hashish, una dose di eroina, 3 flaconi di metadone e altre 8 pastiglie simili al metadone. 70 grammi di marijuana appartenevano ad un 51enne pavese che è stato arrestato. La perquisizione domiciliare presso l'abitazione di uno di questi soggetti ci ha permesso anche di rinvenire una piantagione artigianale con oltre 20 piante di marijuana dell'altezza di ben oltre i due metri e questo ci è valso appunto la possibilità di trarre in arresto del soggetto e di fare una buona opera di contrasto allo spaccio dei stupefacenti sulle rive del Trebbia proprio in questo periodo in cui avremo tanti giovani che vorranno fruire del posto. Un altro 41enne pavese è stato denunciato mentre una coppia è stata segnalata alla Prefettura.